No, ma io penso che la fiducia è da cui bisogna partire, poi bisogna vedere se si riesce a fare qualcosa di positivo. Noi stiamo lavorando per quello, io penso che non mi posso lamentare di comportamento della squadra, cerchiamo di fare il meglio possibile, speriamo di poter competere con tutte le altre squadre. Vabbè, Foggia è sempre una squadra dove sono stato bene, dove abbiamo fatto bene, spero che anche a Pescara, che abbiamo fatto bene qualche anno fa, riusciamo a fare bene. Ripeto, io ho la squadra dove è vero che sono tanti giovani, ma penso che sono di talento e spero che impareranno e basterà per competere con gli altri.